Noi abbiamo suggerito all'amministrazione comunale di fare un passo importante nella direzione dei cittadini e soprattutto nella direzione di esempio. L'esempio è, come in questi giorni si sta parlando della GELAS e della presidenza GELAS, noi pensiamo che strutture come la GELAS debbano essere amministrate da gente che sa che cosa vuole andare a fare. Abbiamo fatto una proposta chiara e netta. Cominciamo a parlare con la città e a dare la possibilità alla città di amministrare gli strumenti della città. Facciamo un bando, facciamo un bando per titoli e soprattutto non solo titoli, ma chiediamo come parte fondamentale di questo bando un piano di azienda, comprensivo di tempistiche, di risorse. Quindi cominciamo a capire anche chi vuole amministrare e che cosa vuole fare, non solo da un punto di vista politico, soprattutto da un punto di vista amministrativo. Voi sostanzialmente date dei consigli, non attaccate l'amministrazione. Ma noi siamo stati chiari anche sei mesi dopo l'insediamento di questa giunta. Nel momento in cui il Movimento 5 Stelle ha fatto mancare quello che è l'appoggio a questa giunta, noi siamo convinti, eravamo convinti e lo siamo tuttora, che questo sindaco e questa giunta dovevano dimettersi. Perché la parte fondamentale di questa giunta, inutile prendersi in giro, era il Movimento 5 Stelle. E dopo che viene a mancare questa, che è la parte fondamentale, il sindaco doveva prenderne atto e dimettersi. Non l'ha fatto, è una scelta personale, ne prendiamo atto, la capiamo, ma non la condividiamo. E dunque il nuovo partito socialista e qual è la posizione che assume? Ma noi siamo partiti, siamo partiti e non ci fermeremo. Abbiamo cominciato a dare le nostre proposte per il territorio, ma proposte concrete. Le municipalizzate? Apriamo la gente, facciamo i bandi. Gli incarichi da dare ai professionali? Cominciamo a dare a professionalità serie, non a politici. Cominciamo a gestire la macchina amministrativa per avere dei risultati e non per fare carriera politica. Ma questo è fondamentale, perché noi dobbiamo dare l'esempio a chi, in questo momento, è scoraggiato e non ha più intenzione di dare un contributo al Paese. Allora, la classe politica cosa dovrebbe fare adesso? Dovrebbe dare l'esempio. Solo questo. E noi siamo pronti, con i nostri progetti già pronti, a condividere col Paese. E vediamo che succede, vediamo chi si sveglia, vediamo chi si alza alla sedia, vediamo chi ci crede. C'è sconforto, e questa credo sia la cosa peggiore, perché le nostre risorse non sono il mare, come si sente dire, il mare, lo stabilimento, l'agricoltura. Le nostre risorse sono i ragazzi e le ragazze che, in giro per l'Italia e per il mondo, gelesi, riescono a raggiungere degli obiettivi che qui a Gela sarebbero improponibili, impensabili e impossibili. Quindi partiamo da questo.